In occasione della settimana mondiale del Rotaract, il club Nisseno ha programmato alcuni eventi, a partire da Legami di Pace, l'iniziativa che ha permesso di inviare dei kit di primo soccorso per sostenere le famiglie ucraine, contenenti mascherine, coperte isotermiche, farmaci e tanto altro, previsto inoltre un momento di confronto dal titolo Rotary e Rotaract, incontro di esperienze, e infine anche un appuntamento dedicato al rispetto verso l'ambiente, la natura e la città con le sue aree verdi, che era stato rimandato di qualche giorno a causa del maltempo. Il Rotaract, infatti, domenica 20 marzo, era presente all'interno del Giardino della Legalità in occasione dell'Environment Day per aiutare il comitato di quartiere a mantenere pulita l'aria verde che si trova nella zona di San Luca e provvedere alla manutenzione delle mimose piantate un anno fa e della panchina rossa inaugurata dallo Sosso Club nel 2019 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo deciso, insieme al comitato di quartiere, di fare questa attività oggi per pulire e mantenere appunto la pulizia all'interno della villa dove ci sono anche giochi per i bambini, quindi cercare di pulire, per esempio, se ci sono sigarette, pezzettini di vetro, la piccola plastica, ma anche la parte di rami magari che si sono rotti, eccetera. Inoltre, avendo qui posto già la panchina per la difesa delle donne e anche degli alberi di mimose, appunto ci teniamo periodicamente a tornare per aiutare a mantenere pulito questo parco della legalità. Ha accolto positivamente l'iniziativa il comitato di quartiere che intanto pensa alla manutenzione del verde e all'eliminazione del pietrisco per rendere la pavimentazione più sicura e agevole per i bambini e non solo. Che abbiamo trovato anche un punto d'incontro con la DAST, la quale periodicamente pensa a pulire il giardino. Infatti siamo contenti che, diciamo, in questo momento i ragazzi che stanno dando questa mano è un valore aggiunto. E quindi sotto l'aspetto della pulizia non possiamo lamentarci. Siamo contenti come stanno andando le cose, che le persone che vengono trovano la loro tranquillità sotto l'aspetto igienico. Però noi chiediamo adesso al comune invece una maggiore attenzione sul verde pubblico. Adesso c'è delle erbacce, quindi occorre loro che possano sistemare e bonificare questa parte. Per quanto riguarda il pietrisco purtroppo, intanto devo dire che l'amministrazione ha un cantiere pronto, è tutto pronto, però hanno un problema, ci hanno chiesto anche alla collaborazione, di trovare un muratore qualificato. E noi ne approfittiamo per fare un appello. Nonostante la buona volontà nostra della DAST, dei ragazzi del Rotaract, ci vuole sempre quel senso civico. Grazie a tutti.